Siamo già maggio, cosa possiamo fare? E il teatro direi che non riaprirà Ma il spettacolo deve continuare Medi or sono Vai riassunto! Non c'è tempo! Ecco riassunto! Quattro ragazze che non hanno i soldi per Spagare il proprio cambio del teatro e Iniziano un progetto nelle tenebre Ma poi qualcosa si scoprirà Quindi aspettate Per poter capire Perché succederà